Ciao, io sono Darius Caramuz e voglio mostrarvi questa scena che ho creato con Blender in questi ultimi giorni a partire da un concept art di Matteo Bassini che potete trovare sulla pagina di ArtStation che lo trovo fantastica perché è uno studio sul colore e sulle luci e sul modo in cui le luci possono influenzare le superfici, quindi ho cercato di fare un esercizio a partire da questo concept molto pittorico però anche spaziale, il modo in cui la saturazione dei colori e la luminosità procede verso l'orizzonte dà proprio questa sensazione di nebbia e di profondità. Questo è un po' il mio progetto finale. Mi sono principalmente occupato di dare quel look al cielo che non è stato semplice devo dire. Mi sono basato soprattutto sul colore che emanava questa parete sullo sfondo che è un semplice rettangolo come potete immaginare con un color ramp che dà sia il colore che l'emissione di questo materiale. Dopodiché sono partito a introdurre, diciamo che forse penso che sia l'unica texture che ho importato esterna rispetto a tutto il resto, che è appunto semplicemente una nuvola con un alfa. Queste che sono le nuvole sullo sfondo più più scure come rappresentato anche qui nel concept. Ho aggiustito, ho deciso quali sono i valori per l'alpha, la stessa cosa per la colorazione, ho dato due tonalità diverse e anche qui ho dato una emissione. Ho cercato di trovare quale fosse il range che mi sembrava più adatto per emettere colore, cioè più che altro per mettere la luce insomma. È la stessa cosa ho fatto per il secondo strato di nuvole, solo che ovviamente sanno molto più luminose e più opache, diciamo, l'ho dovuto personalizzare anche qua. Ognuno di queste nuvole ha una sua luce. Adesso mostriamo anche le luci. E infatti, diciamo, queste nuvole appaiono così luminose appunto perché oltre ad essere a mettere colore, anche se non è sufficiente a mettere luce, scusate, ho aggiunto ad ognuna di queste nuvole un'area, un colore di tipo aria, avendo una luce colorata, no, dà proprio un tono anche alla nuvole stessa, no? In realtà si nota poco qui, ma nel risultato finale si nota di più, come le nuvole sono colorate dalla luce. Questo per quanto riguarda il cielo, diciamo. Dopodiché io ho deciso di fare una carrellata, quindi ho creato degli elementi, diciamo, all'inizio della mia inquadratura, che mettesse in luce i primi piani, queste spesi di sipari e di roccia. Quello che ho cercato di fare qui è quello di usare massicciamente i modifiers, i modificatori. Quest'oggetto viene usato nove volte, quindi ho linkato, diciamo, questo oggetto con Alt-D e l'ho riutilizzato, potete anche immaginare più o meno dove. Per lo sfondo mi serviva una sorta di collina dietro e allo stesso modo mi serviva sia su questi due sipari laterali che su questo oggetto che è la pietra dietro. Non sono riuscito a contribuire a questo a dare una luminosità così contrastata, così saturata, diciamo. Però poi mi sono reso conto che poteva dare più realismo, una sfumatura un po' più graduale. Ho cercato di dare una forma abbastanza naturale, però, come potete vedere, l'oggetto è estremamente semplice. Sì, ho introdotto alcuni elementi di tipo erba, di tipo edera, però la geometria è estremamente semplice, ma mi permette di personalizzare solo le parti che mi interessavano come profilo, diciamo. Dopodiché, già possiamo notare che questa pietra, diciamo, ha già una texture abbastanza intensa. Ho creato una vertex color, questo qui, che... io sto usando l'add-on Node Wrangler, così con CTRL-A, SHIFT, scliccare sui vari nodi. E ho creato questo vertex color, che ha già, diciamo, un contrasto di colore, in questo senso, che poi è personalizzabile, in qualche modo, mi serviva più che altro per delineare il colpo di luce su questa parete. Dopodiché sono andato, deciso, diciamo, una direzione. Qui è un po' difficile da vedere, però. Fa una specie di effetto dust, cioè prende gli elementi che stanno, che guardano verso l'alto. Quindi, queste... Mano a mano che le normali si dirigono verso l'alto, no, ho la possibilità, insomma, di separare i colori grazie a questi due nodi qui. Da qui che ho mixato, diciamo, queste due mappe, bianco e nero, una del vertex color, una delle direzioni delle normali, e ha dato questa colorazione, che mi sembra particolarmente efficace, alla quale poi ho moltiplicato, scontriamo le normali, se no ho mappato, diciamo, l'oggetto, e ho creato questa texture noise, alla quale, che poi funziona, diciamo, come vettore, quindi come deformazione, di quest'altra texture. Questa texture è abbastanza deformata, mi sembra abbastanza interessante, l'ho contrastata, e ho moltiplicato questa texture a un'altra texture, invece, molto più semplice, diciamo, un altro noise texture, che qui l'ho contrastato, a modo da creare quest'altra superficie, diciamo, quindi, aggiungendo quella precedente, abbiamo questo risultato qua. Questo risultato qua, va a moltiplicarsi sia con i colori, che abbiamo visto prima, per quanto riguarda, appunto, il colore, sia con, va ad inserirsi nella roughness, quindi nella lucentezza, questa è una manufattura della roughness, in modo tale da aumentare un po' di variazione, sia anche sulle bump, sulle altezze, un po' da questa specie di superficie rocciosa, ovviamente non ha nessun intento realistico, qui. Questo per quanto riguarda il materiale, quindi già qui, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di aggiungere parecchie informazioni. Dopodiché ho fatto una subdivision, ho fatto due tipi di subdivision, una di tipo simple, per cui aggiunge mesh, ma non ammorbidisce le forme, in modo tale che, diciamo, in linea di massima, la forma rimane quella originaria, altrimenti il sale abbia stato troppo ammorbidito, avrebbe perso quell'aspetto roccioso, diciamo. Ho aggiunto un'altra subdivisione, invece, questa volta ammorbidendolo, perché abbiamo già, come dire, una consistenza sulle geometrie, e poi ho aggiunto quello che dà l'aspetto più roccioso, diciamo, a questa geometria, una displacement map, displacement map è un altro modifier che si trova in questa colonna, ecco, al displacement map ho creato una texture, che potete vedere qui, di tipo stucci, da aggiungere dopo il displacement, è il decimate, che riduce di molto, diciamo, le geometrie, questo è un modifier che è molto pesante, quindi, in generale, sarebbe meglio evitare. Ecco, qui c'è un altro oggetto roccioso, adesso, magari nascondiamo le nuvole, che è abbastanza simile, però, in questo caso, ho provato a creare una forma un po' più organica, più o meno interpretando quello che nel concept era questa parte qui, anche questa forma abbastanza semplificata, questa volta però ho scelto di elaborare le geometrie in questa maniera, c'è una subdivision ammorbidita, diciamo, su tutta la... vogliamo vedere anche in modalità edit mode, che cosa combina il modifier, ammorbidisce le forme, ma io posso, di volta in volta, selezionare dei margini, dei bordi, e negli item impostare l'influenza del modifier su division, in questo modo alcuni tratti sono più contrastati, più spigolosi, ed altri molto meno, in questo modo ho la possibilità di giocare un po' sulla forma, cioè renderla organica, ma progressivamente dove interessava a me, per renderla più spigolosa. Quindi abbiamo il subdivision, abbiamo il displacement, che... eh, ho usato la stessa texture, e poi abbiamo decimate finale, per rendere la superficie un po' più interessante. Anche qui abbiamo un materiale abbastanza simile, e anche qui abbiamo creato una vertex parente, io ho usato Dirty Vertex Color, ho creato questo... Dirty Vertex Color, fa una mappatura bianco e nera, basandosi sulle parti più complesse, rendendole nere, invece le parti più lineari, più semplificate, le schiarisce, insomma, in questo modo abbiamo questa specie di mappatura qua. In questo caso, in realtà penso di averla anche poi personalizzata, perché noi possiamo ovviamente nel vertex parente dipingere, e quindi abbiamo la mappatura usata nella stessa maniera che abbiamo visto prima. Per creare questo effetto nebbia in basso, ovviamente ho aggiunto diverse solidi con materiali di tipo fog, di tipo scattering. Vediamo progressivamente, Toglie, come dire, non scondersi questo effetto nebbia. cambia davvero tanto, diciamo, l'effetto finale. Questa profondità che dava, no, da progressivo illuminarsi dei colori viene a sparire. Dopodiché, c'era questo oggetto principale dell'edificio. Ecco, anche qua ho cercato di tenerlo molto semplice, come potete vedere. Piuttosto, ho usato anche qua un po' di modifier. In alcuni casi ho voluto decimare, diciamo, la quantità di mesh, soprattutto nelle parti più organiche. Ho aggiunto un bevel, per dargli un borno più realistico, più arrotondato, diciamo. Ho fatto una subdivision e qui ho aggiunto delle particelle che si possono vedere soprattutto in alcune parti. Una collection di cubi randomizzata, diciamo, su determinate porzioni di mesh. Ovviamente possiamo scegliere nei vertex group quali porzioni, diciamo, di mesh andranno a mostrare questa collection. Quindi, secondo me, collection, ho messo realtà, ok, principalmente questa. scendendo in basso posso decidere la densità e decidere appunto il gruppo di vertici che andrà a far funzionare queste particelle. Quindi niente di stratosferico. Ho cercato di dare qui un effetto un po' metallico con delle varianti, ovviamente. Quindi abbiamo checker texture che dovrebbe essere una scacchiera, in pratica, però è deformato da questo noise texture. Dopodiché sono andato a moltiplicarla con un'altra texture, un altro noise texture. Noise texture, come vedete, è abbastanza comodo. Dopodiché da questa variazione sono andato a creare questi due colori che abbiamo visto prima. in aggiunta, anche qui ho usato una vertex color, abbiamo aggiunto appunto questa mappatura a quella precedente per creare questa variazione sulle superfici illuminate dal sole. e dopo di che siamo entrati appunto nella base color con questa mappatura qua. Abbiamo una roughness e un metallic sempre basati diciamo su questo checker texture che ha creato queste due varianti. Mentre per quanto riguarda le normal quindi le cartellistiche sulle superfici ho voluto simulare diciamo una parete di un edificio in qualche modo. Quindi qui abbiamo questo pattern qui è abbastanza strano. Abbiamo un altro checker texture abbiamo lo stesso checker texture ma leggermente modificato sulla scala vedete 5.020 molto tale che a differenza di queste due ha creato questa specie di griglia. Poi abbiamo un brick texture che crea questo pattern verticale quindi aggiungendo questi due aspetti abbiamo un risultato di questo tipo così sembrava desse una così una una variazione molto simile mi ricordavo un attimo una parete di un edificio di un grattacielo tipo ho quindi aggiunto quest'altra texture precedente con questo risultato per quanto riguarda le texture le normal quindi ho suonato col suo nodo particolare sulle altezze molto lo 0 0.1 e sono entrato appunto con le normal nel mio materiale anche se magari a volte non sembra però ci sono parecchie luci così così è senza l'illuminazione abbiamo la luce del cielo e abbiamo un leggero effetto sul sul mondo 0.1 di questo colore giusto per dare nelle parti più scure un minimo di informazione insomma io non sono cani ampi però un minimo di colore ambientale mi serviva questa illumina soprattutto questa parte di di mondo di pietra questa parte qui ecco spesso usavo questo tipo di luce qui di tipo aria e questa luce andava a illuminare semplicemente questa parte qui questo mi serviva soprattutto sullo sfondo che si è sannata poco ma c'è una c'è una collina dietro che mi serviva molto illuminata molto da appiattirsi diciamo sullo sfondo non entrare troppo nei toni scuri è proprio come strati di di pittura insomma come pittura d'olio delle velature diciamo è più luce verso il basso sono proprio lampi di pennellate insomma anche qui nella parte qui vabbè per ultimo ho messo una così un tocco di movimento dato da questo stormo di uccelli sono delle geometrie sulla quale ho distribuito con una missione di particelle sono andato insomma a distribuirle con una direzione più possibile legata alla direzione che prendono gli uccelli con un po' di variazione un po' strana vista di qua vista dall'alto perché questo uccello già è già gelato parecchio però alla fine nella inquadratura che ho scelto non si notano più di tanto sono oggetti che ho nascosto perché sono distribuiti su questa geometria completamente trasparente quindi la cartella hide ho nascosto diverse cose tra cui appunto anche gli uccelli comunque questo oggetto semplicemente ha la stessa texture delle nuvole semplicemente perché aveva già una missione con le emissioni di luce quindi davano un aspetto colorato volevo fare un effetto randomico diciamo usando se ne andiamo nel graff editor possiamo aggiungere dei modificatori sui nodi sui keyframe di tipo noise però non funzionavano sembravano realistici e quindi ho dovuto proprio animare il battito d'ali in realtà ho aggiunto anche una leggera deformazione cioè uno spostamento sui tre assi principalmente xy in modo tale ad aggiungere un po' di variazione di movimento diciamo all'oggetto in questo caso si ho usato un modifier noise in modo tale che dato una posizione particolare posso decidere una certa variazione casuale per ognuna di questi assi soprattutto questi due quanto riguarda appunto il battito d'ali ho fatto tre shape case diciamo questa è la base primo semplicemente inclinava più che altro le ali questa abbassa e alza la seconda parte dell'ala mentre il terzo tendeva ad abbassarle in questa maniera sono insomma due deformazioni che messe assieme così mi sembra che funzionasse insomma non è scientificamente realistico però è sufficiente per quello che mi serviva essendo molto piccoli gli oggetti che è questo semplice così oggetto che contiene lo stormo di uccelli è semplicemente così interpolato dal primo frame all'ultimo con questo andamento sull'asse delle X da destra verso sinistra in questo modo abbiamo in qualche modo realizzato lo stormo di uccelli e per ultimo ho messo qualche tocco di luce sul sull'edificio proprio per anche per così accentuare questa caratteristica di vicentezza di una serie di luce che parlano un po' di variazione per dare un po' più di realismo però insomma al fine sono nient'altro che che luce di tipo area e qui e là dove mi sembrava così interessante ho aggiunto questo effetto di di edera insomma sia sia in questa parte se noi lo vediamo da vicino si nota che insomma è finta però insomma poi mi sembrava che desse abbastanza movimento insomma agli oggetti e per creare questa cosa siccome non volevo usare una texture esterna ho semplicemente creato una texture in questa maniera ho generato la mappatura dell'oggetto ho aggiunto un noise texture un altro effetto muse grave ho contrastato questa caratteristica ho contrastato quest'altra e sono andato ad associare questi due texture in questa maniera che danno un effetto verticale insomma diciamo a questo ho aggiunto una colorazione e anche l'ho sfruttato per creare una mappatura di tipo alfa in modo tale che abbiamo alcune parti visibili alcune no quindi l'effetto finale di semi trasparenza dà questo effetto così un po' elaborato insomma in alcune parti si nota tipo questo è stato un processo abbastanza randomico cioè il punto è che dal momento che noi stiamo mappando e stiamo generando più che altro la mappatura della texture non si basa sulla uvmap che è un aspetto che velocizza parecchio quindi grossomodo nessuno di questi oggetti si basa sulla uvmap a parte ovviamente le nuvole come ho detto prima e quindi la cosa interessante è che noi abbiamo questa texture all'infinito essendo una texture procedurale una volta che noi andiamo ad aggiungere mesh questa texture continuerà a ricrearsi e a ripopolarsi insomma è un aspetto che trovo molto interessante quindi niente utilizzo insomma delle texture procedurali come vedete la texture continua a replicarsi all'infinito non si basa sulla sulla mappatura ma tendenzialmente su una mappatura tridimensionale virtuale all'infinito insomma ok con questo diciamo ben finito ho finito insomma questa crevata ripeto spero vi sia piaciuto andate a vedere i lavori di Matteo Bassini e se avete domande potete scriverlo nei commenti grazie per l'attenzione